buongiorno a tutti in questo terzo video vi voglio presentare un po la madre di tutti i modelli steel drum ovvero lo strumento da dove è partito tutto da dove è nata l'idea appunto del marchio steel drum la batteria in acciaio inossidabile questo è uno dei primi set che abbiamo costruito i fusti sono spessi un millimetro le misure sono 10 12 14 la cassona 22 per 14 di profondità questo strumento ha una vastissima gamma di armonici raggiunge delle frequenze molto basse fino ad arrivare a frequenze molto alte vediamo come suona a Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ci vediamo alla prossima con un altro materiale. Ciao.